I singoli sono soggetti portatori di interessi competenti e quindi vanno identificati, mappati e conosciuti e resi interlocutori diretti dell'impresa nell'elaborazione del proprio piano. E intendo i soggetti nel più ampio spettro di quello che voi potete intendere come stakeholders, provate a pensare a quali e quanti possono essere i soggetti che vengono in contatto con un'azienda come Enel e che sono portatori di un interesse diretto e indiretto nei confronti di un'azienda che entra in un piano come quello del rientro nucleare in Italia. Lo strumento che abbiamo adottato per affrontare queste tematiche è quello della megacommunity. In sostanza il riconoscimento a un'opinione pubblica diversificata di un ruolo di interlocutore non mediato, non mediato dalla politica, non mediato dalle istituzioni, di cui le istituzioni sono una parte della megacommunity, ma non sono il diaframma che mi separa dai cittadini. Questo anche perché i cittadini non vogliono avere diaframmi nel rapporto con l'azienda. E quindi significa che devo conoscere in grande profondità usando anche gli strumenti più avanzati come analisi in profondità su fonti open source, con metodologie usate anche dalla difesa, usate da altri soggetti per altri motivi, per la mappatura dei gruppi antagonisti, ma che devono creare un database sempre più articolato e profondo che io devo aggiornare quotidianamente riportando lì dentro tutte le informazioni che raccolgo nei rapporti che ho one to one con i singoli, con le informazioni che ottengo dagli informatori del territorio, con le analisi che farò tradizionali con gli strumenti di ricerca quantitativi o qualitativi che vorremmo usare, con le opinioni che raccoglierò dai media e che mapperò per importanza e per rilevanza e per qualità, in modo da ottenere un chiaro quadro in evoluzione della posizione di questa mega community nella quale io identifico il mio partner non antagonista e nel quale io andrò poi a rafforzare le aree di consenso e a minimizzare le aree di dissenso. Come andrò a rafforzare le aree di consenso e a minimizzare quelle di dissenso? Beh, innanzitutto rendendo queste persone protagonisti. Sempre di più noi vediamo che nell'elaborazione di progetti, nell'elaborazione di proposte sul territorio devi coinvolgere tutti i soggetti in una progettazione condivisa delle tue opere. Non ci sono più possibilità in un contesto come quello che abbiamo rappresentato che un'azienda o un governo, chi che sia, cali dall'alto delle decisioni. La capacità dell'opinione pubblica di formarsi in antagonismo e di muovere leve profonde nel sentimento delle persone tale che, abbiamo visto in molti casi da Scanzano in poi, impedisce con grande forza qualsiasi operatività e qualsiasi decisione. Quindi, progettazione condivisa richiede che la comunicazione, la pubblica relazione nel più ampio considerazione del termine, debbano entrare in una fase strategica antecedente quella della definizione del progetto. Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, in questa azienda per esempio, è quello di lavorare assieme agli ingegneri, non venire in coda al carro degli ingegneri. Perché? Perché l'ambito di conoscenza, la capacità di rappresentare le volontà dei nostri stakeholder deve entrare nella fase progettuale in modo da modificare il progetto anche alla luce della possibilità di realizzarlo con il più largo consenso possibile. L'unanimismo credo che sia impossibile, però in questo modo stiamo vedendo dei importanti risultati nell'allargare quell'area del consenso che oggi rappresenta una garanzia per le aziende per poter lavorare. Concludo abbastanza velocemente. Quindi pianificazione partecipata, confronto tra le parti, coinvolgimento di tutti gli stakeholders, condivisione degli obiettivi, devono essere le parole chiave che con un set di conoscenza formato, come abbiamo visto, attraverso molte forme di indagine e una capacità di costruzione di database complessi, evoluti e dinamici, ci consente di affrontare in maniera, credo, vincente il tema di oggi. Che è quello di raggiungere un grado di consenso sufficiente per poter realizzare dei piani o dei progetti che sono infrastrutturali, ma anche no. Questo richiede, l'abbiamo detto, un approccio integrato della comunicazione, tutte le leve devono essere utilizzate per poter intercettare, capire e orientare un'opinione pubblica così complessa, conoscenza profonda degli strumenti, in primo luogo tutto il mondo dei social network, il mondo dei blogs, il mondo della comunicazione online, grande attenzione alla definizione dei contenuti e dei messaggi e quindi l'articolazione dei messaggi per i diversi pubblici a cui dobbiamo rivolgersi, trasparenza e completezza dell'informazione. Vi ho detto, è un indice ragionato più che un profondo analisi di quello che abbiamo di fronte, perché richiederebbe molto più tempo. Ma io credo che se noi raggiungiamo la consapevolezza che di fronte non abbiamo dei pazzi scriteriati che si svegliano la mattina e formano un comitato che ti blocca l'autostrada, l'impianto elettrico o ti sommerge di valanghe di email il sito della Renault perché magari c'è un difetto, ma di fronte abbiamo delle persone che possiamo conquistare con metodo e conoscenza, credo che avremmo raggiunto un importante obiettivo in primo luogo per le strategie di business nelle nostre imprese. Grazie dell'attenzione.